Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultime notizie sulla crisi di governo. Faraone di Italia Viva dice non abbiamo mai posto veti su Conte semmai li abbiamo subiti. E dice i passaggi istituzionali si rispettano e le consultazioni del Presidente della Repubblica meritano la massima. Attenzione, vogliamo capire dalle forze politiche con cui siamo stati in maggioranza fino a qualche settimana fa se persistono i veti su di noi. Solo dopo potremmo sederci e capire che cosa fare e con chi. Siamo stati sempre coerenti su questo, così come non ci avete mai sentito porre un veto sul nome di Conte. Semmai i veti li abbiamo subiti non si può far finta di nulla e seppellire le ragioni vere di una crisi con una telefonata. Così il Presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha omnibus su. La 7. Mentre Causin di Europeisti dice che bruciare l'ipotesi di Conte e tenere aperta la crisi a quel punto meglio il voto. E certo, gli europeisti sono i mercenari che vorrebbero poi entrare, anzi vogliono entrare nel partito di Conte. Dice se non c'è Conte allora è meglio andare a votare. Ovviamente non gli conviene più, non ha più senso quello che stanno facendo. E dice così, lo spirito del nostro gruppo parte dall'intervento del Presidente Conte e dal fatto che oggi l'Italia si salva solo grazie all'Europa. Insomma, voi vi salvate lo stipendio solo grazie alla continuità di questo governo. Questa è la realtà, lasciate perdere l'Europa, gli europeisti. Vi siete nascosti sotto questo nome? Ridicolo. Guardate che anche Bonaccini, numero 2 praticamente del PD, dice Mi vergogno dei Ciampolillo che stanno arrivando per sostenere il governo Conte in cambio di una promessa di stipendio futuro. Poi aggiunge Causin Non oso pensare cosa succederebbe se ci fosse un governo sovranisti che entrasse in rotta di collisione con l'Unione Europea. Siamo stati molto chiari con il Presidente della Repubblica. Noi siamo per il Conte Terzo. Non vogliamo neanche trovarci nella condizione di fare una riflessione su un governo senza Conte perché bruciare l'ipotesi Conte significherebbe tenere aperta la crisi per un'altra ventina di giorni. A quel punto meglio andare a votare. Così il senatore Andrea Causin, vicepresidente del gruppo Europeisti a Radio Cusano Campos In tempi diversi, con un paese diverso forse Italia sarebbe stata protagonista in un'operazione di governo di salvezza nazionale oggi non riesce a farlo perché è marginale in una coalizione dominata da Lega e Fratelli d'Italia. Intanto Borghi del Partito Democratico dice mettere al centro sfide utili al paese. La soluzione della crisi sta nel riposizionare al centro la politica. Lasciamo perdere le sfumature legate ai caratteri o alle personalità. Il punto quindi è questo, mettere al centro, come ha ricordato ieri il segretario Zingaretti, le prossime sfide che attendono il paese. Dal piano vaccinale all'impiego dei fondi europei per rimettere in moto la crescita. E su questo esprime una capacità reciproca di ascolto e un'attitudine alla sintesi in chi ha il compito di essere un punto di sintesi e di equilibrio, ha dichiarato Enrico Borghi della Presidenza PD a Montecitorio. Nel corso di un'intervista TV sulla 7 Gold, noi democratici, aggiunto, abbiamo proposte molto precise, in tal senso, nel solco di un'agenda riformista che vuole agire su scuola, giustizia, pubblica amministrazione, mezzogiorno, politica industriale. E le mettiamo a disposizione della coalizione. Fassina dice Non dobbiamo consegnarci a Renzi se le elezioni non sono alternativa credibile, ci consegniamo a Italia Viva, data la condivisa impraticabilità del campo di destra. Il problema non è di antipatie o simpatie tra singoli, ma di distanza dal palazzo, dalla realtà. Italia Viva ha un comportamento autoreferenziale e sostenuta dal 2% dell'elettorato. Non può dettare l'agenda. 5 Stelle e PD e EU convengono. Per un governo Conte terzo, il presidente Mattarella deciderà le modalità per verificare la sussistenza delle condizioni politiche per allargare uno schieramento. Già maggioranza assoluta alla Camera e maggioranza relativa al Senato. Chiarisce Stefano Fassina, di sinistra italiana, ad Agorà. E chiarisce se Italia Viva legittimamente conferma le posizioni espresse per motivare il ritiro delle sue ministre, si va al voto. Le elezioni non sono l'apocalisse. Intanto Pizzarrotti dice Renzi è inaffidabile e rabbrividisco al pensiero che faranno la mucchiatona. Ecco, questo modello parlamentare ci ha abituato a tutto il contrario di tutto. Tutti dicono viva la Costituzione quando gli fa comodo, ma abbiamo visto che il modello di elezione dei sindaci e dei presidenti di regione dà stabilità con il modello nazionale. Invece le maggioranze sono sempre instabili. Intanto Rosato d'Italia Viva dice nessun veto su Conte. Sorridevo al pensiero che la notte porta consiglio. Invece sembra che le parole vengono mal interpretate. Il governo istituzionale per noi è subordinato al fallimento del tentativo di costruire un governo all'interno della coalizione. Non abbiamo una preclusione nei confronti di Conte, ma dobbiamo cominciare a parlare di contenuti, chiarisce il presidente d'Italia Viva, Ettore Rosato, a Rai News. Non abbiamo veti e preclusioni nei confronti di nessuno, nemmeno su Conte. È Conte che ha messo un veto su di noi, un veto solo su Renzi. Non esistono veti a persona. Matteo Renzi, il leader d'Italia Viva, se non c'è lui, non c'è neanche Italia Viva. Intanto alle 13.45 vertice del centrodestra, prima di salire al colle, previsto alle 16 al Quirinale. Lupi dice l'esecutivo forte o resta solo il voto? Mentre assistiamo allo spettacolo indecoroso di Conte che lotta per la propria sopravvivenza, tra telefonate notturne e calcio mercato, il piano da 209 miliardi per l'Europa viene bocciato e l'Italia sprofonda, sempre più in una crisi economica. Basta con questo teatrino, all'Italia serve un governo forte e autorevole, oppure la strada maestra restano le elezioni, dichiara Maurizio Lupi, presidente di noi, con l'Italia. Nardella dice i dirigenti del PD non siano ossessionati da Renzi. Matteo Salvini dichiara alle 13.12 tutti insieme appassionatamente per evitare il voto? No grazie. Un governo istituzionale? Cioè tutti insieme appassionatamente per evitare le elezioni? No grazie. Lo dice il leader della Lega parlando con i cronisti in piazza Montecitorio. Noi chiediamo di andare al voto, come si fa in tutta Europa, tutti insieme appassionatamente per evitare le elezioni? No grazie. Il rischio è che alla fine Renzi, Zingaretti e Di Maio si mettano d'accordo per fare un altro governo. A quel punto ci arrabbieremmo parecchio, dice. E poi c'è la dichiarazione di Lannutti, 5 stelle, sempre con Conte, ma senza Renzi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram, e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia, Seconda Rete. Grazie nuovamente e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.